Ok, prima di iniziare a parlare di block elements e inline elements, volevo installare un altro plugin di VS Code chiamato Live Server. Quindi andate qui in basso dove ci sono i plugin, scrivete Live Server e il primo dovrebbe essere quello più scaricato, 12 milioni, funziona abbastanza bene. Cliccate e fate install. Ok, qui si può chiudere e qui possiamo tornare alle nostre cartelle e files. Qui in basso vedete che è apparso questa icona in basso a destra, Go Live. Go Live, infatti se voi cliccate, cosa fa? Lui vi apre una pagina del vostro browser predefinito, nel mio caso Chrome, e ve la apre a un server che si trova sul vostro computer. Quindi come un server però virtuale ed è a questo indirizzo sul vostro computer, alla porta 5005. Sta visualizzando il file Sudafrica HTML. Ora, in questo modo, qual è la differenza? Che in questo modo, se noi andiamo a salvare, semplicemente, facciamo una modifica e salviamo, poi più avanti lo vedremo, qui fa l'update automaticamente, come un server live. Quindi tutto ciò che noi andiamo a creare, a modificare su VS Code, verrà automaticamente aggiornato qui, senza che clicchiamo ogni volta su questa icona. Per il momento l'unica differenza sarà questa, ma più avanti vedrete, quando faremo cose più complesse, che avere un server virtuale servirà anche a molte altre cose. Cosa sono i block elements, gli elementi blocco e gli inline elements, elementi in linea? Ogni elemento è o blocco o in linea, ogni elemento HTML. Gli elementi blocco vengono rappresentati sul browser come li vediamo rappresentati in questa immagine. Quindi ogni elemento blocco prenderà una linea tutta per sé e la riempirà tutta, al di là di quanto il contenuto dell'elemento occupi. Anche se c'è una sola lettera, prenderà tutta la linea. Che ci sia una lettera o dieci parole, ciò che occupa il larghezza è lo stesso. In altezza, invece, dipende dall'elemento stesso. Se per esempio un paragrafo sarà più basso che un H1 di default. Quindi gli elementi in blocco si comporteranno in questo modo e quelli più comuni, ovvero quelli che noi abbiamo fatto finora, sono più o meno gli H. Tutti gli H sono block elements. Scusate. Tutti gli H sono block elements. C'è il paragrafo, le liste, quindi un ordered list, ordered list, gli elementi lista stessi. Tutti questi, e più molti altri, sono block elements e quindi prendono tutta una linea. D'altro canto, gli inline elements, come vedete qua, elementi in linea, ogni elemento prende solo ciò che gli è necessario. Quindi in questo esempio sono elementi tutti della stessa larghezza. Se il contenuto di questi elementi HTML fosse più largo, più stretto, prenderebbe ovviamente misure diverse. Quindi l'elemento in linea non va a capo e sta nel punto in cui si trova. Prenderà l'altezza del contenuto dell'elemento stesso, come il block element, ma la larghezza solo del contenuto. Alcuni elementi block, scusate che ho sbagliato, alcuni elementi in linea sono B, BR, button, che non abbiamo ancora visto, image, span, che vedremo fra poco. Quindi facciamo qualche esempio, vediamo, per esempio creiamo un nuovo file HTML che chiamo esempio.html e qui dentro, vi ricordate la scorciatoria da tastiera, facciamo il punto esclamativo, invio e vi crea tutto il boilerplate per l'HTML e all'interno di body possiamo scrivere per esempio un H1. H1, scriviamo block element, copiamolo un po' di volte, così, se vado a salvare e poi vado a visualizzare, vado a visualizzare sulla pagina Sudafrica, non vedo niente perché questa qua non è la pagina Sudafrica, ma è la pagina esempio HTML. Quindi cosa faccio? Sempre a questo indirizzo, siccome non c'è un link che mi manda lì, non l'ho creato, basta che io scriva qua il nome del file e lui mi manda quel file. Quindi invece che Sudafrica, esempio.html, ecco qui il file, vedete block element, ogni elemento prende una riga se, poi. Ora creiamo per esempio degli elementi A, degli elementi per il link, qui scrivo qualcosa a caso, tanto poi il link non funzionerà ma fa niente, in line element, lo copio e incollo un po' di volte, in questo modo e salvo. Vedete? Non ho dovuto fare refresh, questo è il live server e qui sono i miei elementi in linea, uno dopo l'altro e occupano esattamente lo spazio del proprio contenuto, in questo caso in line element. Se infatti per esempio in accorcio 1, questo scrivo solo in line invece che in line element, in questo modo vedete, salvo. Ah, devo aver per sbaglio cliccato su un link, torno indietro. Ecco, vedete in line prende solo lo spazio della parola stessa. Ora proviamo a mischiarli un po', per esempio mettiamo due block element, poi all'interno ci mettiamo due elementi in linea, in questo modo, e mettiamo un altro block element. Provate un po', secondo voi come li visualizzerà questi? Questi sono block element, questi elementi in linea, provate a immaginarlo e adesso andiamo a vedere. Allora, mi ho messo i due block element, i due elementi in linea, vedete, uno dopo l'altro, poi è andato a capo perché il block element richiede una linea tutta per sé, quindi non verrebbe mai visualizzato qui, se no avrebbe delle caratteristiche di un elemento in linea, quindi mi va a capo e me lo visualizza. Se qua dopo ci fosse un altro elemento, andrebbe a capo ancora, perché lui vuole tutta la linea per sé. Quindi questo concetto degli elementi in linea e degli elementi blocco è importante, perché quando poi andremo a fare CSS, se non si ha ben chiaro come si comportano i vari elementi HTML, è difficile poi creare il layout che vogliamo creare della nostra pagina. Due elementi blocco e linea generici sono l'elemento div e l'elemento span. L'elemento div è un elemento blocco generico che può essere utilizzato per creare un blocco e non ha alcun valore semantico. Questa cosa del valore semantico, se non l'avete chiara, nel prossimo video lo approfondiremo, perché è abbastanza importante e sono delle migliorie introdotte con HTML5, con questo standard, e servono a diverse cose. L'elemento div non ha alcun valore semantico, quindi la pagina lo vede semplicemente come un blocco generico e viene utilizzato, per esempio, qui vedete c'è un paragrafo che è all'interno di questa casella con l'ombra, eccetera. Questa qua è creata con CSS, però per dire all'HTML, per dire al browser che questo testo si trova all'interno di un box, viene messo all'interno di un div. Vedete, questo è il P, il paragrafo, col testo, e è avvolto, si dice wrapped, è avvolto dal div, quindi all'interno del div. Il div in questo caso rappresenta il genitore, parent, e il P, il paragrafo, rappresenta il child. Quindi c'è una relazione padre-genitore che nello scrivere codice è una relazione che vedremo molto. Bene, quindi proviamo a costruire, proviamo a vedere come funziona nel nostro, in pratica, un div. Torniamo alla pagina Sudafrica, per esempio. Questa pagina è visualizzata per il momento, riscrivo Sudafrica, Sudafrica, è visualizzata per il momento in questo modo. Abbiamo questa foto e il link Nelson Mandela. Ammettiamo che io volessi avere dei link qui, tre link per esempio, Nelson Mandela e altri due link, sopra la foto. Se io vado a scrivere, prendo questa linea dove c'è il link di Nelson Mandela, la prendo tutta. La tolgo da qua e la metto sotto l'HR, quindi sotto la riga. E infatti adesso vedete, ho qui il link. Se io aggiungo altri due link che mi invento, magari il primo lo chiamo about, il secondo lo chiamo, sempre un link inventato che non esiste, contacts. Vedete, ho i tre links. Però questi tre links, dopo, siccome i link come abbiamo visto sono elementi in linea, dopo hanno la foto anch'essa, image, è un elemento in linea, vanno tutti nella stessa linea. Io non voglio questa cosa, io voglio che questi links siano sopra. Quindi li metto all'interno di un div. Anche mi serve mettere all'interno di un div perché magari voglio creare una barra di menu, quindi la devo stilizzare in qualche modo. Quindi vado qui, scrivo div, VS Code mi crea anche l'altro, poi prendo la parte di chiusura del div e la metto dopo. I links. Vedete, il div avvolge i tre links. Questo verrà rappresentato in questo modo. I tre link avvolti nel div, quindi elemento blocco, mandano poi a capo, perché è un elemento blocco, e stanno da soli in questa linea. In questo modo io potrò stilizzarli, potrò metterli nel punto in cui voglio della pagina, perché si trovano all'interno del div. L'equivalente del div, ma in linea, è l'elemento span, che è un elemento in linea, e serve come il div come elemento generico. Se io, per esempio, volessi cambiare il colore o lo stile di alcune parole all'interno di un paragrafo, userei l'elemento span, come fa in questo caso lui. Alcune parole, vedete, tipo bezel, lo mette all'interno di uno span, qui c'è anche class, questo attributo che non l'abbiamo ancora visto perché ha a che fare con il CSS, e l'elemento bezel può essere stilizzato perché si trova all'interno dello span. Se io uso adesso, nel nostro caso, lo span, per esempio, sulle parole Repubblica del Sudafrica, qui, prendo Repubblica del Sudafrica e lo metto all'interno, in questo modo, questa la cancello, è salvo. Vedete che qui non è cambiato niente, è uguale, perché l'elemento span, in questo caso non gli ho dedicato nessun CSS, quindi non ha stilizzato in nessun modo questa frasetta Repubblica del Sudafrica, e all'HTML me lo ignora perché è un elemento in linea, quindi non manda a capo e lo visualizza in questo modo. Gli elementi div, soprattutto, ma anche gli elementi span, vengono usati molto, soprattutto poi quando si costruiscono siti più complessi, ma oggi la programmazione moderna prevede che si utilizzino quelli che vengono chiamati tag semantici, quindi dei tags che, diversamente da div e span, hanno un valore semantico all'interno del codice, e ciò che significa questo sarà l'oggetto del prossimo video, quindi ci vediamo nel prossimo video.